Salve, sono Stefania Bellucci della LR Immobiliare di Viale Somalia numero 6 a Roma. Siamo a proporre un appartamento in locazione nella zona Labaro Alta, più precisamente in via Roverbella. L'appartamento in questione è un appartamento con entrata indipendente. Internamente è composto da un salone. Un disimpegno, un'ampia camera matrimoniale. Una cucina abitabile dotata di terrazzo con barbecue, un ripostiglio. Ed il bagno. Non ci sono spese condominiali e quindi non resta che venire a vedere. Grazie a tutti.